La perfetta pronuncia quindi fatta per leggere il Corano in maniera, diciamo, qui lei spiega proprio anche la pronuncia con cui il Corano deve essere recitato. Sì, perché le lettere insomma devono essere pronunciate bene, perfettamente, benissimo, quindi qui è tutta questa moschee, tutto riguarda la parte dei libri, dei libri sacri ovviamente. Qui c'è l'altro, bellissimo, tutti i libri sacri, coranici, qui c'è la verità, qui c'è la verità, qui c'è la verità, fratello ho sbagliato, si mette alla ricerca comunque qualcosa troverà sicuramente. Sì, se uno vuole la verità, la verità arriva, se uno chiede ovviamente la verità, la verità arriva, è vero. Grande complimento per questa bella moschea della provincia di Teramo, provincia di Teramo. Quindi, profita, diciamo, i lavori sono fatti dalla comunità, tutto questo è fatto dalla comunità. Bene, chiudiamo con questo, non si chiamano Mene Reto, no, come si chiamano questo, bellissimo questa scala. Viene tutto con questo, saluto Tore Marino, vera informazione. Quello è fisso per la lettura, questo è per la lettura quindi, no? C'è quello là, questo è, diciamo, panoramico questo qua, puoi prendere. Ah, perfetto. Panoramico questo qua. Certo. Un microfono panoramico. Specialmente per le conferenze, si mette sul tavolo, si sente tutti. Circolare, certo, certo. Si chiama microfono panoramico. E questo, vediamo, poi abbiamo Alessandra, una bella, una marca famosa, la nostra amica. Lo trovi bene qui in questa moschee, è bella? Interessante. Poi camminiamo scalzi, signori, vedete che siamo, anche io, scalzo. Vedi, che bello qui, tipo un trono, un trono bellissimo. Possono seguire attraverso la telecamera, là sopra c'è una telecamera, c'è un televisore, lo schermo. Si, 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 quindi loro hanno una loro...